Proseguono le indagini sull'omicidio di Foiano della Chiana, adesso è stato rinvenuto il cellulare della vittima. Letizia Girolami, 72 anni, psicologa, era stata uccisa nella propria tenuta nel pomeriggio del 5 ottobre. A confessare l'omicidio era stato il 37enne ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana, l'uomo si trova in carcere. Dopo un servizio di rastrellamento operato da noi carabieri della stazione di Foiano della Chiana, del nucleo operativo della compagnia di Cortona e sotto la direzione attenta della procura della Repubblica di Arezzo, siamo riusciti ad individuare il telefonino della signora. Era celato all'interno di uno dei laghetti dell'area di interesse sotto il fango che nel frattempo si era irrigidito, si era un po' seccato. Lo abbiamo individuato grazie all'utilizzo di un metal detector di personale specializzato da noi interpellato. Sperate ovviamente che possa celare qualche notizia, anche dei rapporti che c'erano tra la vittima e il presunto omicidio. Sì, nei prossimi giorni il telefonino individuato verrà sottoposto a degli accertamenti, verrà effettuata una coppia forense, poi analizzeremo il traffico telefonico, le fotografie e i filmati eventualmente presenti all'interno dell'apparato. Il 37enne risiedeva in una depandanza di proprietà della vittima da oltre un anno. I due avrebbero avuto un diverbio in merito ad alcuni pulcini di pavone scomparsi. Il 37enne alla fine avrebbe colpito la donna alla testa con un attrezzo da lavoro agricolo. Rispetto all'arma del delitto è stata ovviamente sequestrata, è stata affidata ad un perito che sta effettuando le analisi sulle tracce biologiche rinvenute sulla stessa. Aspettiamo gli esiti.